Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Accademia dei Gergofili. L'attenzione di oggi è rivolta a Raffaello Lambruschini, nel quale in questa occasione vengono presentati gli scritti, raccolti in quattro volumi curati da Veronica Gabrielli qui presente, titolo di questa raccolta Agricoltura come scienza e direi, l'ho già detto di persona alla Veronica, titolo indovinatissimo perché in qualche modo sintetizza in modo perfetto pensieri e opere di Raffaello Lambruschini. Io ho trovato una chicca che non so se conoscevate ma mi fa piacere riproporla, due righe, esattamente 49 anni fa, per un periodo non abbiamo potuto fare il cinquantissimo, qui in questa sala prima, il 22 febbraio 1974, il De Brando Inverciatori, il fondatore della nostra rivista di storia dell'agricoltura, ha presentato una memoria dedicandola a Raffaello Lambruschini. Il titolo Giorgofilo per eccellenza, come amante della terra e degli uomini che la coltivano, nel significato più intelligente e appassionato della parola. E che dire, è un Giorgofilo eccellente per Antonomato. Ne ricordo brevemente alcuni tratti, è diventato corrispondente del 1820, accademico corrispondente del 1820. Nella stessa tornata delle nuove nomine che lo vide insieme a Giampiero Visse. Quindi sono entrati insieme e sono i personaggi che poi avrebbero dato vita qualche anno più tardi alla giornale Agrario Toscano, al quale ha contribuito con molti degli iscritti che compaiono per l'appunto nella raccolta. Io credo che personaggi come Raffaello Lambruschini rimangono come pietre miliari nella storia di un'accademia come la nostra che si accinge a inaugurare il 270esimo anno di vita e al tempo stesso sono, come dire, esempio, stimolo per tutti i Giorgofili di oggi. Ecco l'importante ogni tanto di raccoglierne gli iscritti che è anche un modo per raccoglierne l'eredità nei contenuti di quello che hanno fatto. Bene, buon lavoro a tutti. Do la parola al mio collega Professor Putin, Presidente della Fondazione Spadolini Nuova. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente per aver partecipato insieme alla presentazione di questi volumi di Veronica. Volumi che fanno parte del Centro Studi della Cività Toscana. Questo centro abbiamo, gli scorsi mesi, con gli amici della Fondazione Cassa di Risparmio, Presidente Gori, con Sandro, abbiamo ricordato i 30 anni. Pensate che la prima iniziativa in assoluto in Firenze, appena nata nel 92, l'è già amato, la Fondazione delle Cassa di Risparmio, fu la creazione di questo Centro Studi. Per volontà di Spadolini, del Presidente Pro Tempore, allora a Mazzei e insieme anche di Alberto Carmi e sotto, diciamo così, la benedizione scientifica di Eugenio Garen, che era il grande sostenitore, di riportare le fonti. Ecco, lo scopo di questo centro che dura da 30 anni e che dura grazie al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio, che si traduce in borse di studio, assegni di studio, soprattutto appoggiati sul Cesare Alfieri, dove appunto le ricerche su Firenze, sulle nostre biblioteche, archivi vengono fatte e con la pubblicazione dei lavori che sono frutto di una pazienza sterminata, perché bisogna farli come Veronica per capire cosa significa. L'amico Coppini che la segue sa cos'è lo scritto di, che sono gli scritti di Campredini, cui ci stiamo occupando in questi giorni con una giovane collaboratrice che è in sala qui, con la Loredana Nuzzolese, cioè dove le lettere vengano scritte da una parte, poi rimette sopra e addirittura di traverso, quindi l'interpretazione, la trascrizione è un lavoro, diciamo certosino, veramente che ricorda i monaci del Medioevo, gli amanuensi, però è fondamentalmente necessario se invece del sentito dire, del ripetere che di volta in volta si torna su un argomento, c'è un centenario, si va a vedere quello che è stato scritto e poi cuscina quello che è stato scritto, si arriva alla verità, si arriva alle fonti, le fonti diari, memorie, carteggi che possano portarci proprio nel clima dell'epoca. E questo è un lavoro che si è svolto per 30 anni, con questi, con questi volumi, con tanti giovani che si sono fatte le ossa, è il caso di dirle accompagnati da professori esperti in quelle singole materie. Ecco, per esempio, questa agricoltura come scienza, mi piace ricordarlo, la presentazione del primo volume è stata fatta da Gian Piero Maracchi, presidente, non a caso, dell'Accademia dei Gergofili. Veronica non si è occupata solo di Lambroschini, diciamo ha avuto alcuni personaggi chiave, uno è stato PSE, prima lo ricordava il presidente, con Lambroschini nel 20 diventa accademico, nel 19 era arrivato a Firenze, nel 20 accademico, nel 19 apre il gabinetto scientifico e letterario, nel 21 dà vita a quella splendida, straordinaria rivista che è l'antologia, importante rivista europea del periodo, fino al 32 poi soppressa e ripresa nel 66 in Firenze capitale da protonosari quella che è la nuova antologia che tutt'oggi pubblichiamo alla Fondazione, pubblichiamo a Pian de Giullari e che ha 187 anni di vita sostanzialmente. Allora si era interessata di Viese con il carteggio fra Lambroschini e Capponi, poi alcuni volumi monumentali, sono carteggi di sei volumi, a volte di cinque, penso quello di Tommaseo, cosa è stato Tommaseo Viese, mi pare cominciato addirittura a Ciampini negli anni 50, continuato da padre Missori, questo diciamo devoto sacerdote che l'ha portato avanti per anni e poi concluso da Polini dopo la morte di Missori con i volumi usciti appunto, quello che siamo stati cinquant'anni, il lavoro sui carteggi di Niccolotto Maseo, come sapete era un grande personaggio, era un grafomane voglio dire che scriveva a oltranza e questo fu fatto. Poi aveva Cosimo Ridolfi, ecco un altro dei grandi personaggi dell'Accademia e dei grandi personaggi anche della Cassa di Risparmio che condò nel 29, ma anche dei grandi personaggi studiati dalla Veronica attraverso i suoi diari, autografi bellissimi sui viaggi in Europa degli anni 20, gli appunti sull'Europa e i taccini di viaggio sempre di quell'anno 20 e poi i viaggi in Svizzera, a Torino, a Milano, ognuno di questi era uno o più volumi che lei diciamo è entrata da noi appena laureata e quindi Piano poi si è sempre dedicata a attività culturali, continua tutt'oggi a dare il suo contributo. Cosimo Ridolfi e finalmente Lambroschini-Ridolfi, i due intrecciati insieme nel loro carteggio, fino ad arrivare a questi quattro volumi su Lambroschini, gli scritti, agricoltura come scienza. Beh diciamo che il primo volume uscì nel 2013, l'ultimo uscito nel 2020, vi presentiamo adesso perché si era in piena pandemia e quindi era impossibile diciamo il contatto, possibile vederci e trovarci, però mi sembrava appunto un, diciamo così, un'attenzione intanto verso i cercofili, tutti siamo debitori a Firenze e non solo a Firenze. E poi il personaggio Lambroschini per quello che ha dato sul campo della scienza ma anche sul campo dell'educazione, non dimentichiamolo quello che fu il grande contributo di questi personaggi non solo sulla mezzatria, sulle macchine, sul trattare il mondo agricolo che era il mondo della vita di tutti, di ogni giorno ma anche per quello che riguardava l'emancipazione attraverso l'istruzione e l'educazione della donna e del contadino che voglio dire oggi diciamo sulle donne siamo sulla esaltazione di tutti, ditti, parità eccetera, ma voi pensate quando ne parlavano nelle pagine dell'antologia nel 24-25, non a caso Capponi dà vita alla prima scuola femminile che è il collegio dell'Annunziata, che non stava a Poggio Imperiale, stava in via della Scala, però è il primo caso di un collegio dove le fanciulle escano di casa e quindi se uno deve anche istruirle, si prendeva in casa un parini, se lo manteneva estruiva i figli, ma l'andare in una scuola, in un collegio, in un ambiente diciamo in cui si scambiava, si viveva, che anche all'altro la giornata di studi era un progresso straordinario che proprio a Firenze, sotto l'egita di Vietze, di Capponi, di questi grandi personaggi, poteva avere luogo e quindi la conclusione dal 13 al 20, 7 anni di lavoro intenso per dar vita a questi quattro volumi che ci danno veramente uno specchio di tutti gli scritti dell'Ambroschini. Non entro nel merito, lo lascio all'Amici Cappini che ringrazio di essere qui con la loro autorevolezza, la loro preparazione e rogari per entrare nel merito, il mio è solo un grazie sia all'Accademia sia a Veronica per il lavoro che ha fatto. Romano, prima, perdonelo. Scusate, io non mi alzo in piedi perché ho dolore alle gambe, per cui, no, no, veramente, perciò, come? Sì, appunto. Allora, i volumi di Veronica Gabrielli sugli scritti di Raffaello Lambroschini si inseriscono nel vasto programma di studi su personalità della civiltà toscana finanziati dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia e seguiti, come tutti sapete, dall'attenta cura di Cosimo Cercuti. Questi volumi sono particolarmente utili in quanto sono stati già ampiamente considerati i contributi di Lambroschini concernenti la pedagogia, la religiosità, mentre una minore cura era stata riservata riservata alla più, alla sua importante e imprescindibile partecipazione ai dibattiti riguardanti i problemi dell'agricoltura al centro degli interessi dei cedi dirigenti toscani. Naturalmente Lambroschini è sempre citato in tutte le opere che concernono l'argomento, è considerata la sua partecipazione alla nascita e alla collaborazione alle più importanti riviste, sono considerati i suoi interventi, tuttavia mancava una raccolta organica che illustrasse il suo vasto contributo alle questioni agrarie, prevalente preoccupazione del moderatismo toscano dagli anni venti dell'Ottocento e dello stesso scelto dirigente fino ai primi anni del secolo seguente, anzi fino agli anni cinquanta del novecento si potrebbe dire. Questi volumi, per mezzo di un'intelligente ripartizione di argomenti, che poi dirò quale è, ci conducono dai primi interventi scritti per l'Accademia dei Gergofili da Raffaello Lambroschini fino ai tanti contributi redatti per il giornale agrario toscano. Ed è naturale in quanto l'abate di San Cerbone, Gorridolfi e Lapo dei Ricci, ne era stato uno dei fondatori di questa rivista nel 1827. Questo giornale nasceva sull'onda dei dibattiti che avevano agitato gli interventi dei proprietari toscani dopo l'articolo di Aldebrando Paolini che aveva posto la questione, e cito Aldebrando Paolini, se attese le particolari circostanze della Toscana possa essere più utile ai progressi dell'agricoltura il sistema di dare i beni rustici in affitto piuttosto che darli in colonia, cioè a mezzaderia. Questo è lo scritto del 1823, a cui immediatamente aveva risposto Cosimo Gino Capponi su alcune particolarità dell'economia toscana per cui non era opportuno né auspicabile l'affitto. Questa era stata la risposta di Gino Capponi. La larga discussione che si aprì ai georgofili vide protagonisti tutti i principali esponenti del moderatismo, primo fra tutti Cosimo Ridolfi che partecipò con diverse memorie fino dal 1824 con la memoria sul commercio frumentario in cui non erano strane le suggestioni derivanti dalle descrizioni del viaggio di Javran-Pierre Besset in Russia, a causa dove Besset aveva messo in luce il pericolo della concorrenza dei grani provenienti da quelle zone dalla Russia rispetto ai grani toscani. nella memoria citata Ridolfi sosteneva che il nostro sistema colonico paragonato a quello di ogni altro paese è il più economico in quanto alle spese di produzione ed è il più lucroso riguardo alla quantità di prodotti in massa. Questa era la convinzione di Cosimo Ridolfi che porterà poi fino alla morte. Era conclamata convinzione di Ridolfi che grazie alla diversificazione delle culture e al contenimento dei costi conseguibili nell'ambito del sistema a mezzatrine fosse possibile un sensibile aumento delle rendite senza la necessità di alcun intervento sul sistema doganale. Fu su questi principi che avvenne l'incontro con Lambroschini e Lapo de Ricci di cui ho parlato e che portò alla nascita del giornale agrario toscano luogo di discussione non solo con gli agronomi di altri stati quali Don Basle, De Candor, Dandolo, Gould ma soprattutto teso e utile ad incentivare il dibattito agrario fra gli stessi esponenti dell'agricoltura toscana, dell'agricoltura toscana, dell'agricoltura locale. Certo come in ogni redazione non mancarono i timori di Lambroschini che li esternò di fronte alle sicurezze di Ridolfi circa l'introduzione di novità in campo agrario che avrebbero incontrato gli ostacoli della classe contadina. Ma tali perplessità sarebbero state ben presto fugate dalla fiducia che lo stesso Abate di San Cerbone nutriva circa una più ampia diffusione delle conoscenze in campo agrario come scrive Veronica Gabrielli nella sua introduzione al primo volume di questi scritti di Lambroschini che avrebbe innescato processi di cambiamento sulla base di quel nesso strettissimo che nella logica dei toscani sembrava esistere fra agricoltura, sviluppo toscano e sociale ed efficienza del sistema politico. Questa è la citazione di Veronica Gabrielli dal primo volume. I risultati raggiunti da Lambroschini in campo agronomico, anche se non paragonabili alla meritata fama conseguita in campo pedagogico e religioso su cui ci sono scritti di Paseren D'Andrea, di Mario Rosa e di tanti altri, sono stati tuttavia rilevanti e non inferiori a quelli dei più noti proprietari toscani. Ce lo mostrano con estrema chiarezza i quattro volumi di scritti, raccolti, introdotti e annotati da Veronica Gabrielli. I primi due volumi toccano la vasta gamma di interessi dell'abate con una quantità di articoli non solo sul giornale agrario ma apparsi anche su altre riviste italiane. Gli sono trattati tutti gli argomenti che più occupavano gli interessi e gli investimenti dei proprietari toscani e del nord Italia. Vi erano trattati la cultura del gelzo, l'allevamento dei bachi da seta, fino alla trattura dei filati, alle malattie delle piante. Gli altri volumi di Veronica Gabrielli, il terzo volume, questi sono i primi due volumi, il terzo volume riguarda gli strumenti agrari, i terreni, la coltivazione, la vite e gli olivi che erano molto importanti in Toscana e poi soprattutto i prodotti alimentari che da questi derivavano. Il quarto volume riguardava invece più specificatamente l'istruzione agraria, la libertà economica che era importantissima per i toscani e poi soprattutto la mezzaderia. Questo il perfezionamento poi del coltro a cui Lambroschini si dedicò in maniera particolare, disegnando un coltro particolare diverso da altri coltri che erano stati disegnati da altri toscani, c'era quello di Ricasoli, quello di Cambridigny e da altri, quello di Lambroschini invece era capace di affondare e rivoltare più in profondità la terra tanto da essere premiato all'esposizione di Parigi del 1858. In questo clima di sempre maggiore distacco del ceto dirigente toscano dei Lorena negli anni 50 dell'Ottocento appare significativo il maggiore interesse rivolto proprio in questi anni alla Francia e al Piemonte, alle cui esposizioni come questo del 58 che era tenuto a Parigi, alle cui esposizioni parteciparono larghe schiere di agrari toscani. Basta di pensare al successo dei bachi toscani a Torino nel 58, tutti i più grandi agrari toscani, Ricasoli, Ridolfi, Cambridigny, portarono i loro bachi da seta e cercarono di venderli ai piemontesi e agli svizzeri in particolari, che abilmente seppero in questa occasione però i toscani andarono nel 58 a Torino e seppero cogliere in questa occasione per tessere quella rete di rapporti che sarebbe stata loro utile ed essenziale un anno dopo al momento dell'unità. Il problema dei ceti subalterni dei contadini in modo di renderli participe dei mutamenti agrari che si volevano apportare nelle campagne costituiva un argomento di discussione considerato fin dagli anni venti. Infatti già allora Lambroschini aveva espresso dubbi sulla difficoltà di raggiungere i contadini per trasmettere loro una istruzione agraria. Infatti fin dal 26 si era espresso in tal senso sull'antologia, che era una rivista che non poteva arrivare ai contadini ma arrivava soltanto ai centi dirigenti e dove aveva scritto sopra cento contadini forse soltanto uno sa leggere e scrivere. Perciò bisognava rivolgersi a una classe di mezzo capace di portare loro ai contadini la cultura agraria e questa classe fu individuata in un primo momento nei fattori. Poi tutti i proprietari toscani capirono che il fattore non era utile alla trasmissione ai contadini ma bisognava investirsi di questo problema e portarle, Cosimo Ridolfi era stato uno dei primi a capirne, bisognava portare questa cultura agraria personalmente ai contadini. Infatti lo stesso Ridolfi nonostante la fiducia nel suo collaboratore testa ferrata per i lavori di viticoltura che aveva e di terrazzamenti che aveva preparato nella sua tenuta di meleto e che ancora oggi se ne vedono le tracce per le viti, riteneva che gli stessi proprietari avrebbero dovuto essere maggiormente presenti sulle loro terre attraverso l'istruzione, gli strumenti sempre più perfezionati attraverso l'adozione di rotazioni rigeneranti i terreni ed infine per mezzo una corretta contabilità seguendo l'esempio di quanto avveniva avveniva a Roville da parte di Don Basel. Lo stesso proprietario avrebbe dovuto presiedere all'istruzione agraria di un certo numero di allievi che avrebbero diffuso i loro insegnamenti ai vari contadini. Con queste scuole ebbero vita nelle tenute di Lambroschini, di Ridolfi e di altri proprietari toscani, anche di Ridolfi, ma l'abate fu costretto a sciogliere questa scuola prima degli anni Sessanta, mentre quella di Ridolfi, da quella di Ridolfi uscirono agronomi di tutto rispetto come Pietro Cuppari che lo seguì negli anni, nella prima, nel primo scuola di agraria che fu istituita a Pisa negli anni Cinquanta e poi, dopo la chiusura da parte del Ganduca, fu ripresa negli anni Sessanta, sempre con Cuppari che fu il presidente della scuola di agraria di Pisa. Lambroschini nel suo insegnamento rimase sempre più acceso, il più acceso difensore della mezzeria, insistendo soprattutto sul suo aspetto morale che ne faceva una sicura salvaguardia dell'ordine costituito dell'ordine sociale. Infatti, per Lambroschini l'aspetto sociale ebbe sempre la prevalenza su quello tecnico, e proprio per questo fu l'unico che, all'interno del ceto dirigente toscano, rimase sempre fermo nella sua strenua difesa in difesa del tradizionale contratto mezzadrile. Questo fino al 1871. Su questo argomento, al Congresso Pisano degli Scienziati nel 39, Lambroschini si scontrava con Vincenzo Servagnoli, a cerrimo critico invece del sistema mezzadrile. Si deve tuttavia riconoscere che lo stesso Rodolfi, con ben altro intento, avrebbe cercato di sperimentare una sospensione di questo contratto, del contratto mezzadrile, negli anni Cinquanta e per tutti gli anni Cinquanta, facendo vedere che anche l'affitto non poteva essere più gratificante per i terreni di quanto lo fosse la mezzeria. Comunque anche l'insegnamento agraria impartito ai contadini doveva fare parte degli impegni del proprietario, il quale avrebbe dovuto impegnarsi nel congiungere lo studio delle lettere con lo studio delle scienze, se voleva ammaestrare il popolo nell'agricoltura e nelle arti. Era questo il titolo di una sua relazione, della relazione di Lambroschini, tenuta il 6 agosto del Cinquantaquattro. In questa prospettiva erano benvenuti sul giornale agrario toscano anche contributi meno scientifici, ma più accessibili ai contadini, come quello del Pievano Arlotto. Naturalmente questo tipo di istruzione era concepibile in un sistema come quello mezzadrile che permetteva un continuo contatto fra la parte padronale e il lavoratore, il mezzadro. Altro indubbio vantaggio del contratto mezzaderile inoltre, come avevano messo in evidenza Ridolfi e Georgoflin fino dagli anni venti, costituiva la più chiara espressione della connessione fra mezzaderia e liberismo. Infatti si sosteneva che se il liberismo inglese poggia soltanto sulla raccolta del grano, da noi le tre raccolte di grano, vino e olio rendono assai meno frequente che si combini l'assoluta carestia di tutti e tre i prodotti, tanto da rendere più sicura la produzione sia per la parte padronale sia per il contadino. Questa imprescindibile connessione di mezzaderia e liberismo avrebbe costituito una delle maggiori convinzioni dei proprietari toscani e di Lambroschini, esternata nel suo discorso sulla libertà del commercio dei grani, tenuto il 2 maggio 1847, al ricevimento che fu dato per Codden nel palazzo Ridolfi in via Maggio e in via Maggio in questa occasione. L'abate di San Cerbone sarebbe rimasto fermo in questa convinzione anche quando nel 1871 si erano cominciate a denunciare le prime crepe di questo contratto, indirizzando una memoria letta all'Accademia di Giorgofli, che era indirizzata a Luigi Ridolfi, figlio di Cosimo, intorno al valore tecnico e morale della mezzeria. Tutte queste relazioni e dibattiti sono oggi facilmente accessibili grazie all'opera e all'attenta cura di Veronica Gabrielli, da cui si evince che la connessione fra mezzatria e liberismo fu un tratto irrinunciabile per i proprietari toscani. Non rappresentò però un tratto immutabile, in quanto i principi dell'assefer avrebbero tollerato non poche comode eccezioni, fin quando la mutata situazione sociale avrebbe reso assai improponibile il sistema del mezzarile e questo sarebbe venuto fra la fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento e per tutto il Novecento. Grazie. Grazie Romano. Sandro. Grazie. Io naturalmente Romano Paolo Coppini vi ha già offerto una panoramica così ampia, dettagliata e approfondita, dal profondo conoscitore del tema, quella che è la figura, l'opera di Lambruschini. Io mi soffermerò su alcuni aspetti particolari, anche già trattati da Romano, ma voglio spezzare soprattutto una lancia, anzi due, una a favore di Cosimo, l'amico Cosimo Cecuti per l'opera che porta avanti indefessamente da decenni per la pubblicazione di questo plesso di pubblicazioni mastodontiche, che è davvero un'opera gigantesca e davvero cultore della materia, ma anche da profondo amatore del tema, di questa civiltà toscana che fornisce agli studiosi degli strumenti, altrimenti difficilmente reperibili o non reperibili, per conoscere quella che è stata la civiltà, in particolare dell'Ottocento. Cosimo porta avanti ormai nel trentennale di questa azione un disegno ciclopico di costruzione della conoscenza della civiltà toscana dalla quale nessuno studioso può prescindere o può tralasciare. La seconda lancia che volevo spezzare è a favore di Veronica. Veronica, lo vedete qui con noi, è una giovanissima studiosa, ma ormai particolarmente agguerrita, che a partire dagli anni 90 ha dedicato a Lambruschini tanti studi, con la raccolta di carteggi e poi in quest'opera Cosimo ha detto di sette anni, ma in realtà un'opera decennale quasi, perché immagino che il primo volume, quello del XIII, introdotto da Maracchi risalga nella sua concezione, nella sua architettura, almeno un paio d'anni prima. Quindi quest'opera decennale di raccolta e di pubblicazione degli scritti di Lambruschini all'interno di quello che viene chiamato l'agricoltura come scienza e che fornisce veramente tutta una serie di strumenti, di studio sulla civiltà toscana straordinari. Anche sfatando alcuni miti, uno dei miti tradizionali della civiltà toscana, della destra toscana, è il mito dell'antiindustrialismo. Ecco, questo mito ha cominciato a cadere con gli studi che abbiamo fatto, abbiamo cominciato a fare su Peruzzi, in occasione del centenario della scomparsa, sotto legge del VSE, grazie allora alla promozione del direttore del tempo, che si chiamava, che è l'amico e collega Paolo Bagnoli, dedicato appunto a Ubaldino Peruzzi, quale Ubaldino Peruzzi era tutt'altro che un anti-industrialista, non solo perché era un ingegnere, non solo perché si era formato a Parigi, ma perché aveva una cultura manageriale che lo portavano. Lui, certo grande esponente della destra storica, certo dopo la morte di Cavour, probabilmente il personaggio più famoso, più importante, e anche quello più avversato, per tanti motivi su cui ora non entro, ma che comunque aveva lasciato scritti particolarmente importanti anche sulla questione. Lui, laureato all'Ecole des Minnes a Parigi, aveva lasciato scritto studi importanti sui processi di industrializzazione. Analogamente potremmo dire anche per l'abate di Cerbone, per l'Ambruschini, il quale l'Ambruschini quando parla di meccanica agraria, quando parla della necessità di introdurre la meccanizzazione nell'agricoltura, si dimostra tutt'altro che avverso alla creazione di un'industria manifatturiere, anche a supporto del perfezionamento della modernizzazione agraria. Anzi, ritiene che lo sviluppo dell'industria manifatturiera nel settore sia funzionale, non solo, ma ritiene che i capitali possano muoversi dalla dimensione agricola, dalla dimensione manifatturiera, e quindi riproporre un qualche cosa che in Italia ha scarsi esempi, il massimo esempio nella storia dell'industria italiana e del capitale industriale italiano, di osmosi dal mondo agricolo al mondo industriale e quella della famiglia Agnelli poi sostanzialmente. Quindi una realtà che quella italiana non riproduce il modello britannico, dove i grandi latifondisti furono poi i primi grandi investitori precocemente nell'industria manifatturiera, ma che in Lambruschini ha un suo anticipatore. Quindi anche in questo possiamo vedere dagli iscritti di Veronica la modernità di questo studioso. Sono quattro volumi densissimi, due dedicati a quella che è la gelsibachicultura, cioè a quella che è la coltivazione innovativa, anch'essa funzionale allo sviluppo di una manifattura collegata all'agricoltura, che è la coltivazione, la cura del baco da sete e la coltivazione del gelsio. Sono due volumi, il primo e il secondo, quello del 13 e quello del 16, dal cui Veronica raccoglie, credo, tutti gli iscritti pubblicati su Giornale dell'Agricoltura, Giornale Toscana dell'Agricoltura e negli atti dei Giorgofidi, dove che raccoglievano le lezioni, le conferenze che venivano, o gli iscritti o i saggi che venivano pubblicati da Lambruschini sul tempo. Quindi i primi due volumi sono, diciamo così, quasi esclusivamente monografici su questo tema, dove Lambruschini si pone come il massimo studioso nel panorama del riformismo illuminato agraria o toscano della prima metà dell'Ottocento. Il terzo e il quarto volume invece allargano molto la visuale, in modo molto sintetico, toccano grandi questioni pedagogiche, la questione dell'istruzione, la questione della libertà economica, la questione della mezzardia e le cronache delle annate agrarie, soprattutto relative all'area di competenza, quindi filine e dintorni, all'area di competenza di Lambruschini. La mezzardia, già accennato, è al centro naturalmente delle attenzioni di Lambruschini, di Capponi, di Casoli, di tutti questi riformatori, di Ridolfi, di tutti questi riformatori agrarie, con due, l'ha già accennato Romano, due partiti contrapposti, diciamo così. Il partito di quelli coloro, testa c'è Lambruschini, che dice Lambruschini, non si tocca, non si tocca e lo dice con uno spirito religioso, perché è Vangelo interna e cristianesimo in azione. Quindi è qualche cosa che esalta, garantisce la famiglia agricola, garantisce il proprietario, garantisce la solidarietà di classe, garantisce l'amalgama sociale, garantisce cioè tutta una serie di aspetti che non sono aspetti solo economici di garanzia, ma anche direi soprattutto nell'ottica di Lambruschini sono aspetti di tutela morale, in particolare della famiglia del contadino, e dall'altra parte Ridolfi, che è il campione, diciamo così, del partito avverso, che dice la mezzatria è una bella cosa, hai ragione, sono tanti tutti di vista, ma, ma, e questo è il ma di Ridolfi, favorisce un conservatorismo estremo. Perché? Perché il contadino non vuol cambiare nulla di tutto ciò che ha imparato per sedimentazione plurisecolare, dagli studi di imberciatori citati giustamente da Massimo Vincenzini, in esordio sappiamo che la mezzatria in Toscana si trova nei primi contratti dell'anno 1000, quindi, diciamo, il contadino, mezzatro, colono, ha dietro alle spalle un pregresso pluri, pluri, plurisecolare e quindi a questo si attiene, perché è convinto che attenendosi a questo sia garantito, bene che vada, male che vada, che ci sia carestia o che ci sia annata particolarmente ferrida, di garantire la famiglia, la sopravvivenza della famiglia e quindi il colono all'interno dell'istituto della mezzatria è un grande conservatore per questo motivo. Il proprietario perché è conservatore? Ma perché il contratto di mezzatria, una rendita maggiore o minore, tende a garantirla al proprietario e quindi anche negli anni di minore gettito, di maggiore limitatezza nelle produzioni, di minore fertilità e quindi quel proprietario che per lo più risiede in città e che opera, ha il rapporto col colonio tramite quella figura che tende a consolidarsi nell'Ottocento Toscano, che è la figura del fattore, è conservatore dall'altra parte e quindi tende a non innovare, a non investire e a ritenere che la rendita agraria. E quindi Ridolfi dice, giusto hai ragione tu Raffaella a dire che non bisogna toccare la mezzatria perché si mette a rischio la famiglia, ma il proprietario deve assumersi la responsabilità, garantire la famiglia mezzatria e però sospendere il contratto di mezzatria per dimostrare al contadino che importando la rivoluzione agronomica del nord Europa che in Italia stenta a diffondersi, il contadino può avere dei grossi benefici e quindi in qualche modo essere indotto a superare questo conservatorismo. E' un grande dibattito che va avanti fino, sappiamo bene che Ridolfi scompare negli anni Sessanta e nel Sessantacinque, si ricordo bene che Lambruschini scompare nel 1873, che Caponi muore nel 1875, che Ricasoli muore nel 1880 e quindi diciamo questa che è la grande stagione delle grandi figure del riformismo agrario toscano scompaiono e restano chi? Restano degli eredi, intendiamoci, io due, ne richiamerei soprattutto due figure, una è la figura di Sidri Sonnino e l'altra è la figura di Lambruschini, di Leopoldo Franchetti che crescono alla scuola di Pasquale Villari, rappresentano i continuatori di questa bestra toscana riformatrice ma hanno alcuni limiti, soprattutto ce li ha Sonnino perché Sonnino quando ormai l'agricoltura gestita col contratto di Mezzadria già sta dimostrando la corda e quindi le intuizioni di Ridolfi cominciano a essere, a verificarsi sul campo, teorizza il modello idealtipico della Mezzadria e lo difende come l'aveva difeso Lambruschini. Non solo, ma pensa che per risolvere i contratti leonini meridionali e lo sfruttamento del contadino bisogna imporre il contratto di Mezzadria per legge anche nel mezzogiorno perché quello è il contratto perfetto per gestire, cioè tende a idealizzare un modello contrattuale che i suoi pregi ce l'ha ma comincia nel processo di modernizzazione agricola del tempo a mostrare anche i suoi limiti e i suoi difetti il fatto che qui sono necessari dei capitali e degli investimenti nella meccanizzazione e nell'acquisto dei concimi chimici che le rotazioni che dimostra la nuova agricoltura che viene dal nord Europa non possono essere più quelle di prima che biennali adottate col maggesi adottate dal... e quindi insomma tutta una serie di questioni che Lambruschini qui ai Giorgofili nel... non scusate Lambruschini... che Guicciardini qui ai Giorgofili nel 1907 enumera, racconta in quelle famose conferenze sulla Mezzadria in cui dice la Mezzadria non può essere esaltata come un modello idratico, deve essere calata nella realtà della nuova agricoltura che richiede nuovi investimenti e nuovi rapporti contrattuali tutto ciò che esploderà ma ora non entro nel tema perché ci porterebbe lontano nel primo dopoguerra quando i Mezzadi Toscani si organizzarono e chiesero una profonda revisione del contratto e arrivarono fino nel 1920 a chiedere l'esproprio sostanzialmente dei grandi possedimenti dell'abolizione del sistema di fattoria per diventare piccoli coltivatori diretti sul podere che fino allora avevano gestito come coloni. Insomma questo per dire che il dibattito è un dibattito straordinario che dimostra la cultura particolarmente avanzata sotto il profilo tecnico, sotto il profilo pedagogico, sotto il profilo morale, sotto il profilo degli indirizzi politici generali che caratterizza questo ceto politico, Lambruschini è in massimo grado diciamo espressione di questa cultura illuminata di un grande riformismo certamente paternalistico ma di un riformismo profondo e che tende però ad esaurirsi quando tende a chiudersi negli anni sessanta e negli anni settanta un po' per la scomparsa di questi grandi protagonisti e un po' per la difficoltà di questo ceto politico a riuscire a innovarsi. Che dire ancora? Sono due, quattro volumi che sono stati aperti dall'introduzione del compianto Maracchi e immeritatamente dal sottoscritto nell'ultimo il quarto volume con un inquadramento di carattere generale che dimostrano appieno quella che è la statura del riformismo agrario toscano certamente con un'impronta ad un approccio di carattere paternalistico. Badate bene un approccio di carattere paternalistico lo si vede bene nel giornale d'agricoltura perché, e lo dice Veronica, era un passaggio che non va dimenticato, che la proposta che viene a VSE, a Lambruschini e a Ridolfi, che sono i due maggiori curatori della testata, non è quella del giornale agrario, è quella del giornale dei contadini. Quindi, in qualche modo il non toscano di essere ha una visione un pochino meno paternalistica. Giustamente Lambruschini replica non farai mai arrivare ai contadini il messaggio pedagogico dell'istruzione e i contadini non lo recepiranno mai. Ci vuole la mediazione del proprietario. Cioè quello in cui crede Lambruschini è che la rivoluzione agronomica, fatta delle nuove rotazioni, delle quadrennali, fatta della meccanizzazione, fatta dal non sprecare risorse a coltivare cereali in collina ma piuttosto puntare tutto sul vino e sull'olio e quant'altro, è sia cosa fattibile e che il contadino potrà essere disposto a recepire perché ci si impegni il proprietario. Quindi il grande mediatore è il proprietario, non è il giornale che arriva al contadino, a parte che il contadino per lo più è analfabeta e non legge e se non è analfabeta comunque non si fa convincere e non va a leggere gli articoli. Il mediatore ci vuole fare la responsabilità soggettiva, l'assunzione di responsabilità soggettiva da parte della proprietà. Questo dice Lambruschini. Ridolfi dice non basta perché il proprietario non ce la farà mai anche con la mediazione del fattore a convincere il contadino a cambiare perché è il contadino che gioca sulla sua pelle e gioca sulla pelle della propria famiglia perché poi il contratto a mezzatine non era mica individuale, era con la famiglia, con la composizione di tutta la famiglia in relazione alla forza lavoro che aveva la famiglia e quindi a quanti maschi adulti c'erano, a quante femmine, minorenni o adulte c'erano, insomma tutte ponderate con una forza, a quanti superavano i 50 anni e a quanti stavano sotto i 50 anni, tutto ponderato in relazione alla forza lavoro che era data dalla famiglia. Ecco e quindi diceva Ridolfi non ce la farai mai a convincere, devi perché gli stessi proprietari pur volontariosi non riusciranno mai a convincere il contadino, devi invece fare a loro assumere la responsabilità per la grande trasformazione. Insomma è un dibattito molto alto e molto nobile che accompagna la storia e che è anche in senso politico molto alta di questa ceto politico che poi le metterà la destra toscana sotto l'eggita del grande rivoluzionario Bettino Ricasoli che porterà l'Italia alla lotta a fianco di Cavour, alla lotta per il riscatto e il risorgimento nazionale ma che dimostra quanto questi personaggi fossero agguerriti, di quale statura fossero e come raccogliere le loro opere, come dire, segni un lascito importante a disposizione degli studiosi che vogliano tornare, aspico che venga fatto un po' più di frequente, a studiare l'Ottocento perché l'Ottocento toscano insegna tante cose. Grazie. Forse c'è qualche domanda che volete fare approfittando di due relatori così convincenti. Allora siamo in chiusura, io vorrei chiudere prima di tutto ringraziando i due i due relatori che mi hanno detto che non vuole parlare. Lei è grande scrittura, scrive ma non parla. Quindi chiudiamo l'incontro di oggi ringraziando i due relatori che anche per chi non avesse letto tutti i libri credo che risultino incuriositi per andare a vedere. Abbiamo capito tutti che Raffaello Rambruschini ha rappresentato un personaggio che ha contribuito fortemente ad un dibattito che è partito negli anni 1820 e successivi ma che tutto sommato si è concluso a metà del secolo scorso. Quindi è un lungo periodo di riflessione e quindi questi personaggi lo hanno diventato. Io concludo dicendo che il personaggio è veramente emblematico. All'inizio vi ho detto che Rambruschini è diventato accademico corrispondente del 1820, è diventato accademico ordinario nel 1831, è diventato presidente dell'Accademia dei Giorgofili nel 1865 e primo nella storia dell'Accademia è stato nominato presidente onorario nel 1870. Quindi un personaggio nella storia dell'Accademia i presidenti onorari sono soltanto tre, il primo è lui e l'ultimo è stato Franco Scaramuzzi. Quindi per dire un personaggio sul quale giustamente abbiamo oggi puntato l'attenzione e invitato tutti a leggere ciò che Veronica ha prodotto con tanta applicazione e tanto sacrificio. Grazie a tutti e buona serata.